La politica è al centro di niente, riguarda Ostia. Fanno degli investimenti incredibili dietro, vogliono fare una specie di Las Vegas. L'odiava nel numero 8. Non lo conosco. C'è stato in mezzo la politica, la finanza. Ma che questo mi viene a cerca a me? Ma che questo è Ostia? Non è che ha sentito me la destinazione? Tanto vuoi sapere che qua sia senza denuncia nulla. Devi solo accusare la legge sulle periferie. Bisogna farla finita. Non è stato in mezzo a questo numero 8. Quando si scherza più se non salta tutto. Non è stato in mezzo a questo numero 8.